Noi sosteniamo in maniera assoluta che questo stato di insolvenza non c'è e non vogliamo in alcun modo sentir parlare di fallimento delle cooperative operai. Alfredo Antonini, illegale delle cooperative operai, risponde così sullo stato di insolvenza avanzato dal pubblico ministero in vista dell'udienza di lunedì in tribunale. I soldi del prestito sociale ci sono, assicura l'avvocato, e sono stati gestiti dalle cop come farebbe una banca. I cooperative operai a fronte di questi 100 milioni di prestito ci sono immobili per almeno 60 milioni, ci sono liquidità disponibili per circa 30-35 milioni in garanzia a una banca che ha con fideiussione garantito la restituzione del prestito per circa un terzo. I dubbi dei soci restano sempre molti, a cominciare dal quesito se considerare i propri risparmi nel bilancio familiare anche in vista delle scadenze delle tasse. Questi sono soldi loro, per ora io non metterò in perdita niente. Ci sarà certamente un sistema che farà riconseguire la liquidità necessaria per poter far fronte a questi rimborsi. E' ovvio che non si deve pensare che domani mattina o fra dieci giorni tutti questi importi debbano essere restituiti. Occorre dare fiducia alle cooperative operai e mantenerli con la certezza di poterli riavere. Il problema di liquidità in sostanza sarebbe stato scatenato dalla situazione contingente. Io posso dire che il Consiglio di amministrazione ha sempre operato nell'interesse delle cooperative operai e con assoluta trasparenza. I problemi sono, come ho detto, problemi di liquidità derivata da oculati investimenti immobiliari del passato. Un chiarimento è giunto poi dall'Avvocato sul ruolo della Regione. La Regione è un ordine di controllo delle cooperative, quindi di controllo, non di intervento finanziario. Potrebbero intervenire piuttosto delle finanziarie regionali. Lo ha scritto anche il Pubblico Ministero, che nessuno ha intenzione di far fallire le cooperative operai.